Un tavolo di confronto con i privati per risolvere la questione dell'ex tabacchificio ATI di Via Italia. Ad annunciarlo è l'assessore all'urbanistica del comune di Ponte Cagnano-Faiano, Carmine Spina, a seguito della conferenza dei capigruppo convocata per discutere proprio della situazione dell'area industriale dismessa da più di vent'anni, grande 40.000 m2 e caratterizzata, oltre che da una condizione generale di degrado, dalla presenza di coperture in amianto a rischio deterioramento. Una bomba ambientale da disinnescare con l'aiuto dei proprietari, che a giorni saranno convocati per avviare un percorso di collaborazione con l'ente.